Il bocciodromo Vittorio Casarin di Feltre sarà teatro delle finali scudetto di serie A maschile e femminile del campionato di bocce specialità volo. L'appuntamento è per il prossimo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 maggio. La struttura di via 14 agosto ospiterà atleti e appassionati per una due giorni di sport e competizione che verrà trasmessa in diretta dall'emittente televisiva Canale Italia. Con la finale maschile e femminile che si svolgerà il 28 e 29 di maggio avremmo la massima espressione delle bocce maschile e femminile qui a Feltre. Noi come società di Mugnai e come delegato della Federazione Italiana Bocce facciamo un'attività che porta sia all'attività dell'alto livello, sia naturalmente l'attività di basso livello per cui gioco per tutti e naturalmente anche l'attività di paro olimpico. Come puoi notare già in questo momento ci sono delle attività di paro olimpico che lo sosteniamo con forte intensità. Un'opportunità che porterà benefici non solo al mondo delle bocce ma anche al territorio nel suo complesso dato l'alto grado di visibilità che un tale evento porterà al comune Feltrino. Feltre ancora una volta oltre che essere una città storica si dimostra sicuramente preesposta sia per la cultura che per lo sport. Promuovere questi eventi significa appunto dare risalto al territorio che non ha solo scopi sportivi ma sicuramente anche ai fini turistici. Sei ore di diretta televisiva nazionale sabato e sei ore di diretta televisiva domenica per cui una grande promozione per il territorio perché parleremo anche del territorio oltre che naturalmente fare la cronaca delle partite che permetteranno l'aggiudicazione del campionato italiano a Feltre.